Il mattino dell'8 dicembre 1841, festa dell'Immacolata, dopo ho spostato indossando i paramenti per celebrare la festa della chiesa di San Francesco d'Assisi. Il sacrestano, vedendo un ragazzo in un angolo, lo invitò a servire la messa. Non sono capace, non ho mai servito. Ma sei un bestione, ma sei un sacrestano che dobbiamo fare. Un anguia a un sacrestano, rincorrendo il povero ragazzo per piccarno. Don Bosco fermò con decisione il sacrestano, dicevo. Non la suicidare, perché ho un mio amico e ho bisogno di parlare con lui. Sì, è sacrestano. Il sacrestano è chiamato un buon tagliere al ragazzo, che è mortificato, e si avvicinò a buon loco. Vieni ad ascoltare la messa, dopo ho da parlare, ma fare, farà piacere. Ce ne vuol dire. Il figlio d'anni, infatti, è rassicurato, il giovane prete, di parlare. Mio caro amico, come ti chiami? Quanto non lo darei? Di che paese sei? Di Asti. È vivo il tuo papà? No, è morto. E tua mamma? Anche lei è morto. Qualche anni hai? 16. Sai leggere e scrivere? Non so niente. Hai fatto la prima confusione? Non ho povera. Ti sei già confessato? Sì, ma quando ho picco. E fai a catechismo? Non osa. Perché i ragazzi più piccoli sono a rispondere alle domande, e io che sono tanto grande non so niente. Ho vergogna. Se ti facessi catechismo a parte, verresti ad ascoltarlo? Molto volentieri. Anche in questo posto? Purché non mi prendo la vostra nata. Stai tranquillo. Nessuno ti maltratterà. Anzi, ora sei mio amico. Ti rispetteranno. Quando vuoi che cominciamo con il catechismo? Quando vuoi. Stasera? Va bene. Anche subito? Un piacere. Don Bosco si inginocchia e recita una bevaria. 45 anni dopo, ai salesiani, ieri. Tutte le benedizioni, dovuteci dal cielo, sono frutto di quella prima bevaria, detta con fervore, corretta, intenziosa. Finita la bevaria, Don Bosco si fa il segno di croce, per cominciare, ma si accorge che Bartolomeo lo fa. O meglio, fa un gesto che ricorda solo vagamente il segno della croce. Allora, con dolcezza, glielo insegna bene. E poi, gli spiega il dialetto. Sono astigiani tutti e due, perché chiamiamo Dio padre. Alla fine gli dice. Vorrei che venissi anche domenica prossima. Volentieri. Ma non venire solo. Porta anche i tuoi amici. Adesso noi recitiamo tutti insieme un ave maria. Ave Maria.